ciao a tutti ragazzi ciao ragazzi ecco paola ma dove ci troviamo poco fa eravamo a new york dal boss delle torte ma dai andiamo a vedere com'è ebbene sì stiamo a woken nel new jersey vicino a new york e allora abbiamo detto ma perché no andiamo un po a vedere il negozio di paddy la mitica pasticceria eccola non c'è nessuno quando eravamo venuti qualche anno fa c'era la fila qui fuori paola mi vedere dai entriamo dentro o stanno anche assumendo sarebbe bello incontrarlo davvero comunque vedete questa è la pasticceria originale mamma mia com'è diversa ripeto ci siamo venute anche qualche anno fa ma c'era una fila e qui dentro era proprio impossibile stare e invece vabbè comunque è così qui purtroppo abbiamo dovuto ordinare da qui guardate non possiamo neanche avvicinarci lontanissime dal banco abbiamo preso un paio di cannoli e un paio di sfogliatele bene ragazzi questo è il nostro bottino abbiamo speso 27 dollari per due cannoli due sfogliatelle e una fetta di torta al cacao quella è la mia adesso andiamo ciao a tutti ragazzi ciao